Steve Case Se credi che funzionerà, vedrai opportunità. Se non ci credi, vedrai solo ostacoli. Wayne Deere Ciò che è giusto non è sempre popolare. E ciò che è popolare non è sempre giusto. Albert Einstein Il dubbio può essere rimosso solo dall'azione concreta. Getty Anche le persone di successo hanno paure, dubbi, preoccupazioni. Semplicemente non permettono a questi sentimenti di fermarli. Harv Hecker Il dubbio uccide più sogni di quanto farà mai un fallimento. Susie Kassem Ci saranno sempre molti che dubbiteranno di te. La cosa peggiore da fare è aggiungersi da solo a quella lista di persone. Ogni volta che ti trovi d'accordo con la maggioranza, è il momento di fermarti a riflettere. Mark Twain La speranza non è una strategia. Solo l'azione lo è. Niente al mondo è mai completamente sbagliato. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Paolo Coelho La speranza non è una strategia. La speranza non è una strategia.